Sono in Inghilterra da 50 anni e mi sono dedicato un po' anche alla comunità italiana, ho fatto più di 35 anni di volontariato, ma in questo tempo sono stato eletto al Comites tre volte, ho fatto il Presidente, il Vice Presidente del Comites e adesso sono membro del Consiglio, sono ancora Presidente del Circolo Italiano in Londra Sud-Est, Presidente dei Campani, Presidente della FAIA, sono stato Presidente dell'Inter-Inter-Cosic, nella mia vita mi sono stato da fase, il mio motto è stato questo sempre, di cercare di aiutare i nostri connazionali e sono in contatto con il Consiglio Generale aiutato nazionale con i passaporti, l'informazione, con l'ambasciata e cerco di dare sempre una mano a quello che ha più bisogno e continuo ancora, l'ho fatto per 35 anni e continuo ancora a fare. E grazie anche al nostro Presidente, adesso oggi sono grande ufficiale ordine merito di Repubblica Italiana, questo devo ringraziare il nostro Presidente. Sono qui per tutta la comunità e quando sono stato eletto ho preso 2000, 2000 e 70 voti, questo per essere eletto membro del Consiglio Comites, su 60 persone sono arrivato secondo. E sono anche il Presidente dell'Associazione Campani nel mondo e sono anche consultore alla Regione Campani. Penso che ho fatto un po' di cosa.